5 vittorie consecutive per un Padova lanciatissimo, ha vinto anche in settimana in Coppa Italia contro il Legnago. La Propatria ha ottenuto 3 vittorie in questa stagione, tutte in trasferta. Dunque all'Euganeo, match temibile per il Padova contro la Propatria. Primo tempo di marca, bianco scudata, apre le danze, capelli, il suo tiro di destro, palla sul fondo. Padova con Palombi in attacco al posto di Liguori, fermato da un problema nel riscaldamento. Ancora padroni di casa in attacco, Dellicarri, tiro cross velenoso, palla sul fondo. E' una Padova che preme qui l'errore di Bertoni, libera proprio Palombi che punta il fondo, tiro cross pericoloso. Non arriva nessuno a chiudere il pallone, era anche uscito sullo spunto di Palombi. Nel finale di primo tempo l'azione migliore della prima frazione del Padova, Capelli. Palla intelligente a rimorchio per Fusi, prima parata di Rovida, poi Varas e Rovida si supera. Doppia grande parata del portiere in prestito alla Propatria dall'Inter. Qui superbo sul doppio tentativo avversario. Propatria che si fa vedere con Stanzani, minuto 51. Il destro parato da Donnarumma, sarà un secondo tempo impegnativo per Donnarumma. Minuto 61, Radrezza su punizione, malissimo, stavolta Rovida. La testa vincente è quella di Bortolussi. Terzo gol in campionato, il secondo consecutivo dopo il centro contro il Trento. Bortolussi al 61esimo, porta avanti il Padova. Complice però Rovida con l'uscita negativa sulla punizione di Radrezza. Padova ora scatenato alla metà del secondo tempo. Russini, finta, controfinta, assist per Bortolussi. Tiro alto, c'era anche fuorigioco. A questo punto però esce la Propatria, reazione dei Bustocchi con Castelli che scalda le mani di Donnarumma al 76esimo minuto. Tiro debole, facile per Donnarumma. Poco dopo però errore di Radrezza che si fa anche male. Fietta libera Castelli, stavolta Donnarumma è sontuoso. Parata incredibile ed esulta come per un gol. Antonio Donnarumma è un Padova che si difende ma la Propatria è in forze. Minuto 81, Saporetti di testa scomposto Bortolussi. Dopo aver segnato tocca di mano, concede il calcio di rigore decretato dal signor Gigliotti di Cosenza. L'intervento scoordinato di Bortolussi manda la Propatria dagli 11 metri. Castelli contro Donnarumma va a spolverare le ragnatele dall'incrocio dei pali. È un rigore perfetto. L'unico modo per battere una grande Donnarumma è calciare un rigore impeccabile. Castelli fa uno a uno. Attacca il Padova nel finale ma non riesce a sfondare la squadra di Torrente. Pareggio, Propatria che si conferma squadra da trasferta. Mentre i biancoscudati lunedì possono essere raggiunti in vetta nel posticipo dal Vicenza.